Un match prestigioso questa sera al trofeo di Mignola, alle 20.40 si affronta l'Inter. Sì, un match prestigioso ed affascinante per noi. Siamo arrivati qui quasi per caso perché dopo la partita con il Modena pensavamo che con Cesena fosse difficile, siamo riusciti a passare il turno, vincendo anche bene tra uno. Quello di stasera sarà una partita che ci farà capire tante cose. A livello di percentuale a che punto è questo Parma per quanto riguarda sia la forma che la definizione dell'assetto di squadra? A livello di condizioni fisiche siamo già a un buon livello, parlerei di un 60-70%. Abbiamo lavorato bene, siamo in ritire o comunque abbiamo iniziato la preparazione del 24 e quindi siamo già alla terza settimana e ho visto che la squadra si risponde bene. Dal punto di vista organico praticamente la squadra è conclusa e definita, abbiamo fatto una squadra cercando soprattutto di portare i giocatori che abbiano due parametri, uno che siano liberi e due che siano interessanti. Ci siamo riusciti, la squadra si è formata bene, si è amalgamata anche dal punto di vista mentale e noi aspettiamo più ducciosi campionati.